Con Città Metropolitana siamo riusciti a individuare un target da coinvolgere e sono stati gli insegnanti. Grazie a Cesedi che questa struttura straordinaria per le competenze che esprime, devo dire che io sono rimasta veramente colpita dalle competenze che Città Metropolitana offre alla cittadinanza, sia come mediazione, come ufficio mediazione, ufficio rapporti del sociale e sia a Cesedi, competenze anche molto diverse di cui c'è bisogno di entrambe. Siamo riusciti, grazie appunto a Cesedi, a organizzare, a proporre nel catalogo che ogni anno Cesedi propone ai suoi insegnanti un percorso di formazione per gli insegnanti della scuola primaria e secondaria di primo grado. E questo l'anno scorso, l'abbiamo ripetuto anche quest'anno. E abbiamo avuto una reazione che ci ha anche sorpreso di moltissimi insegnanti che hanno aderito alla nostra proposta un breve corso di aggiornamento, con le nostre forze non avremmo potuto fare di più, dove Città Metropolitana con Cesedi sono stati gli artefici di questo piccolo format, piccolo per la riduzione delle ore, ma secondo me grande come intenzione, come proposta vera, reale, di andare incontro agli insegnanti nei problemi che affrontano ogni giorno, che sono più di uno. Intanto sono la conflittualità dei genitori che non molla neanche a scuola. Quindi quello è un problema, sapersi porre equidistanti, non parteggiare per nessuno, se non per il bambino e per il ragazzo, perché poi bisogna sapersi schierare dalla parte giusta, però in questo caso è solo quella dei bambini. E poi abbiamo saputo, avuto conferma anche da loro, di quanta sofferenza ci sia in questi bambini. Ci hanno detto che la percentuale di bambini, di figli, di genitori separate aumenta via via, che aumentano le classi che frequentano, con una sofferenza indicibile, dove spesso il vero, unico porto sicuro è la scuola. Lì sanno che troveranno la loro classe, i loro compagni, il loro banco, soprattutto la loro maestra. Quindi hanno una certezza di dove potranno stare per lo spazio dedicato allo studio.